Stiamo parlando quindi di un progetto mondialista in cui gioca un ruolo fondamentale la componente esoterico spirituale e quindi una componente mondialista che tende all'immersione di un governo mondiale di una popolazione ipercontrollata, tutto nel nome di una figura che noi conosciamo dalle Sacre Scritture che è la figura di Lucifero e di questo lei ha trovato le tracce nei suoi vari viaggi all'estero andando nella stanza delle meditazioni all'ONU, andando a visitare il faro che poi è un memoriale su George Washington che si trova da Alexandria, l'ha trovato tornando in Sicilia e quindi anche rileggendo certi fatti compresi gli attentati a Falcone e Borsellino. I fatti che riguardano tutta la nostra storia, tutta la nostra storia negli episodi più salienti, cioè esiste questo marchio che indica questa struttura direttiva. Diciamo che gli episodi, io ne posso essere a conoscenza per alcuni episodi perché ho avuto una cognizione in quella che è la mia vita, per altri episodi bisogna per forza ricorrere allo studio, però diciamo che l'episodio che riguarda il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro è un fatto che non solo sotto i profili che ho io evidenziato, ma sotto tantissimi altri profili individua la presenza delle indicazioni che io ho dato. L'attentato al Papa che non per niente viene eletto alla fine dello stesso anno 1978, Papa Voitila, non è altro che esattamente la prosecuzione dello stesso identico problema esteso nei confronti del Vaticano che aveva già assunto durante il sequestro Moro delle posizioni antagoniste alla rivelazione degli aspetti sottostanti le stesse azioni che avevano determinato l'effettuazione del sequestro e poi dell'uccisione. Cioè esistono delle continuità e delle continuità di condotte che insomma sono trascorsi 40 anni, 50 anni della nostra storia, non è possibile che non ci si ponga come obiettivo di far luce su questi episodi, che poi dalle carte processuali, parlo delle carte di Trento, ci siano scritti i nomi dei Rosa Croce che sono ancora viventi, che sono presenti e sono interessati a quei centri di potere cinese che sono presenti in Italia e che operano indisturbati senza essere sfiorati da indagini del presente perché nel passato li hanno avuti. Beh io posso dire così e rimango profondamente stupito perché non è concepibile che in una democrazia come è la nostra che si fonda su determinati principi sui quali abbiamo superato a fatica una guerra per uscire da una dittatura e guadagnare dei principi di carattere democratico. Si abbandonino questi principi così come viene comunemente ormai riconosciuto. Io l'ho detto il giorno seguente, il primo DCPM che è stato emesso in Italia che non era legittimo. Ma è possibile, ma è possibile che la magistratura non alzi un dito per intervenire? I tre poteri dello Stato servono per garantire la democrazia e la libertà. Non è possibile abdicare da questi che sono i fondamentali principi senza che il potere dello Stato che è preposto per il controllo della legittimità dell'attività svolta dal governo e dall'autorità amministrativa non intervenga per ripristinare dei principi di democrazia soppressa perché non è più democrazia, non è più forza del popolo, è una forza eteronoma. C'è chi dice così che questi principi sono giustificabili in guerra, ma la guerra qui non c'è. Noi stiamo operando, tutto ciò che avviene con il sigillo del Presidente della Repubblica è al di fuori della nostra Costituzione, ma non viene spiegato. Noi siamo martellati da notizie che non incentrano i problemi fondamentali di quanto noi viviamo oggi perché non incentrano il fatto che, come è avvenuto in piccolo per altri problemi in cui si additava la Sicilia per problemi che invece riguardavano l'Italia, l'Europa e assetti planetari lo stesso, nell'epoca degli anni 90, noi oggi, intimiditi e intimoriti da una tecnica militare quale è la shock terapia, non ci rendiamo conto che ciò che è in gioco oggi è il valore della libertà a livello planetario. È un discorso diverso, cioè quindi dalla territorializzazione della informazione noi siamo portati a disconoscere, a non individuare e a sorvolare su quelli che sono i problemi essenziali dell'umanità e che costituiscono il prodotto di duemila anni di civiltà e che noi stiamo tradendo per un'influenza un po' più grave delle altre, prevista ma non diagnosticata con un'autopsia. Questo io voglio dire è premiata con migliaia di euro per ogni caso che viene diagnosticato e definito come tale e senza un'indagine della magistratura, senza la formazione di una commissione di indagine o di inchiesta a livello parlamentare come è avvenuto normalmente per altri fenomeni che non hanno modificato la Costituzione. Perché nel 92, quando ci sono state quelle stragi, nel 92-93, ci sono stati degli omicidi, ci sono state delle vittime, ma ci sono state comunque azioni della magistratura, sia pur limitate, ma ci sono state commissioni di inchiesta che hanno cercato di evidenziare sotto il profilo amministrativo che cosa è avvenuto. Oggi non sta avvenendo niente, è esistito un fatto produttivo di danni alla nostra economia, più quasi che ha l'economia di qualsiasi altro paese e non c'è la ricerca del responsabile, c'è la ricerca del vaccino, ma non la ricerca del responsabile che dovrebbe pagare i danni. Anzi, viene quasi considerato alleato, è il primo alleato, è il primo strumento necessario per superare questo problema, ma proprio uno dei soggetti che è additato tra i responsabili della pandemia. A mio parere esiste un problema di responsabilità e di ruoli dei quali l'uomo, a cominciare dal nostro, per la vastità degli interventi che si sono succeduti nel nostro paese, in questo settore, dovrebbero imporre degli interventi di controllo della magistratura, della stessa amministrazione, del Parlamento e del popolo su quelle che sono le violazioni fondamentali dei diritti costituzionali per i quali noi siamo usciti da un regime di dittatura per, in fin dei conti, ritornare in uno stato autoritario in cui non esiste la possibilità di impugnare un provvedimento perché viene cambiato cinque giorni dopo. Ma non è possibile, non è concepibile e senza cogliere e senza nemmeno nominare in un solo telegiornale, in nove, dieci mesi, dei nomi come Rockefeller, come Bill Gates che operano indisturbati nel nostro paese, come se quasi fossero i palestinesi di turno, non è concepibile, come non è concepibile che si mantengano dei segreti di stato che coprono determinati fatti delittuosi, incompatibili con uno stato di diritto, perché proteggere dei terroristi garantendo l'immunità vuol dire disconoscere il principio di democrazia e di sovranità nel nostro paese, la stessa cosa sta avvenendo nei confronti di questi soggetti che però stanno condizionando dal nostro paese quasi fossero in un paese in cui vige l'assenza di sovranità, esiste anche l'impunità per questi soggetti e la sottrazione a qualsiasi accertamento. A mio parere indica delle zone franche che hanno svolto e stanno svolgendo un ruolo determinante nell'accadimento dei fatti allo stesso modo in cui avvenne esattamente nel 1992-93. Questa condizione di istituzioni prone a questi potentati esteri o a questi gruppi di potere che lei ha citato, in che cosa lei individua? Una collusione, una incompetenza, una incapacità di comprendere i fenomeni in corso? Dove vede lei il fatto che le istituzioni e lo stesso Presidente della Repubblica non reagiscono a questa palesissima violazione dei diritti costituzionali durante questa pandemia? Nella tecnica adoperata, che è la shock terapia e la tecnica del terrore, non è altro che la massima estremizzazione della tecnica del terrore che ha costituito lo strumento per governare il mondo dal passato a oggi. Con la differenza che fino alla seconda guerra mondiale vi sono state determinate armi. La seconda guerra mondiale ha visto concludersi la seconda guerra mondiale e i relativi conflitti con la bomba atomica, con uno strumento di terrorismo internazionale che ha chiuso una fase per aprirne un'altra, guerra che è stata introdotta attraverso quella guerra fredda che ha tenuto per un certo periodo di tempo in una situazione di determinati equilibri di contrapposizione, ma sappiamo benissimo che non erano di contrapposizione ma di spartizione di potere sulla base di un certo concetto di terrore atomico. Poi è subentrato il terrorismo, dopo l'abbattimento del muro di Berlino, è subentrato il terrorismo di carattere integralista islamico che è stato strumentale alla regolamentazione del cambiamento degli assetti mondiali successivi all'abbattimento del muro di Berlino e poi accanto al manifestarsi dell'evoluzione che indubbiamente ha avuto l'Oriente e in particolare la Cina nel rafforzamento del proprio potere nella effettiva produzione della ricchezza mondiale della ricchezza mondiale e della laboriosità del paese. ma nello stesso tempo della massima espressione dell'asservimento della popolazione allo Stato, noi oggi stiamo assistendo a un superamento delle contrapposizioni ideologiche che abbiamo detto sotto degli schermi e spettacolarizzazioni, hanno comunque consentito spartizioni di potere a livello planetario per vederle adesso sostituite da un'altra spartizione che non vede più paesi, non vede più governi, non vede più i soggetti tradizionali, non vede più nemmeno le banche che erano gli strumenti operativi, vedono invece dei soggetti che rappresentano dei centri di potere trasnazionale, internazionale e che guarda caso costituiscono espressione di quelle sinarchie, quelle oligarchie, quelle dinastie che coincidono con quelle che si tramandano in una seconda storia, quella storia che è alternativa a quella occidentale tramandata dal mondo del nostro Mediterraneo, e l'ultimo effetto è quello della trasformazione del concetto del terrore che oggi viene considerato e viene utilizzato come strumento per governare il mondo al di là delle ideologie per il potere oggi consentito alle macchine, intendendo macchine quello che rappresenta l'ultima evoluzione delle macchine, cioè che è nelle mani di quei pochi che però sono in grado di governare il mondo. Questa è la realtà. Se non ci si rende conto che la realtà non è nel nostro paese, non è nell'Europa, non è negli Stati Uniti, è un problema che riguarda i rapporti esplicativi dell'uomo, dello spazio che deve avere la parte spirituale dell'uomo rispetto alla parte materiale dell'uomo. Oggi tutto ciò che avviene è diretto a distruggere la parte spirituale esaltando esclusivamente la componente di carattere materiale, quasi fosse possibile eliminare dalla natura dell'uomo la componente spirituale che è la prima che ci distingue dagli animali. Ecco, ciò che a me preoccupa molto in questa fase del mio studio è la tale elementarità di ciò che sta avvenendo e che ciò che è sotto gli occhi di tutti e che è purtroppo non vista e non visibile per un martellamento e per una manipolazione della cognizione dell'uomo resa possibile da una tecnica militare che è stata oggetto di studio, cioè non è che è stata oggi inventata. Oggi è stata posta in essere dopo prove, dopo elaborazioni scritte, con tanto di scienziati, con tanto di giustificazioni neanche del clima, della sovrappopolazione, eccetera. Cioè dietro questo tutto ciò che avviene oggi vi è l'evoluzione del pensiero dell'uomo. Non ci si rende conto che oggi se non viene ristabilito il principio delle nostre libertà, non è la pandemia il rischio, dell'uomo di morire per la pandemia. Si muore per le guerre, le battaglie, si muore per tumori, per una pluralità di motivi. Ma non si muore inutilmente, si muore salvando le libertà. Quindi in questo scenario, dottore, lei vede un uso manipolatorio di una pandemia che esiste, ma che di fatto non è, come appena detto, il maggiore rischio della società umana. Quindi l'uso della pandemia per il fine del raggiungimento di questo progetto milenario, di un nuovo ordine mondiale. Certamente. Parole che spese anche l'ex presidente napolitano. Anche lui era il sostenitore di questa visione della vita e anche altri personaggi politici. Io sono convinto che la particolarità delle mie enunciazioni non è nel loro contenuto. è più che altro nell'aggancio di tali considerazioni, traendole da episodi concreti che hanno funestato la storia del nostro paese e dell'umanità, traendoli da atti, atti veri e propri atti processuali e dalla particolarità di esserne stato anche protagonista e visore, perché certi luoghi li ho visti, esaminandoli da vicino, avendoli incontrati sul mio percorso. Alludo a Trapani dove il sacro monte della massoneria non è visto nemmeno dai trapanesi, è sconosciuto proprio per questo obnubilamento generalizzato della popolazione greggio che non si accorge nemmeno di vedere ciò che sta accanto a lui. Ecco, quindi diciamo che la mia preoccupazione è che l'aspetto peggiore di questa tecnica che è stata posta in essere la shock terapia e che è documentata, io nei miei studi, io ho indicato per filo e per segno che il rilevamento che è stato posto in essere da questi centri di potere di cui sono indicati nomi, cognomi e luoghi operativi in Italia, non all'estero, in Italia, sono stati posti in essere non per misurare la pandemia, cioè il diffondersi della pandemia, ma la paura conseguente alla diffusione della pandemia e conseguentemente il rapporto che esiste tra l'effetto psicologico nell'individuo e nella popolazione di accettazione nella trasformazione dei principi democratici in principi autoritari è l'arma, la nuova arma che a livello non solo nazionale ma planetario è quello che sta determinando il cambiamento di questi assetti mondiali. Ora, se si tiene presente che questa tecnica è stata posta in essere, posta in essere, documentatamente, perché lo può vedere chiunque di voi, ormai quello che è in rete non può essere più cancellato, perché almeno questo la rete diciamo così, ce lo ha donato e rimane, casomai è oscurabile, però non del tutto cancellabile. Ecco, questo particolare strumento è stato usato, è stato iniziato ad usare, almeno abbiamo la prova che è stato iniziato ad usare il 22 gennaio il 22 gennaio ancora non era stato per la prima volta applicato in Cina il lockdown, cioè praticamente lo studio di questa tecnica di esame delle reazioni della popolazione di fronte al terrore è uno studio che trova i suoi fondamenti nel 1970 e sono degli studi internazionali che vanno dall'Italia stiamo parlando del club di Roma ecco, vanno dall'Italia agli Stati Uniti al mondo intero e sono trasversali i personaggi e i principi non è che riguardano solo alleanze alleanze tra governi riguardano alleanze tra soggetti anche antagonisti che hanno superato qualsiasi prova e che sono arrivati a compimento nel momento in cui, guarda caso, era scritto in documenti massonici che doveva avvenire con tanto di citazioni bibliche con tanto di citazioni pagane che si richiamano alle più antiche sacre scritture sia religiose sia di carattere pagano dell'antichità allora noi che cosa possiamo dire? possiamo dire che noi veramente stiamo vivendo in questo momento una contrapposizione tra due modelli di cultura o se vogliamo dire così il modello di cultura del ventesimo secolo è pervenuto a uno stato di saturazione nel quale tutto ciò che è stato costruito in duemila anni è entrato nelle contraddizioni ultime e sta vivendo veramente quel momento della conflittualità finale nella quale il rischio non è il virus il coronavirus o come si voglia chiamare ma è l'alterazione dell'uomo l'alterazione della natura dell'uomo dei principi di democrazia e di libertà perché è questo che è il valore che è in gioco oggi valore per il quale nel passato le vittime sono stati popoli, popolazioni, personaggi, papi, magistrati e per i quali diciamo certi valori sono stati portati e condotti anche senza la consapevolezza di combattere verso questi fini però oggi questi fini noi credo che abbiamo il dovere di metterli a fuoco individuarli e trarne in tempo utile le conseguenze perché quando si perdono certi valori non si li acquistano più e quando si delega alle macchine ciò che può fare l'uomo noi sappiamo che l'uomo diventa inutile quindi quando si parla della concorrenza di queste soluzioni che riguardano insieme il riscaldamento del globo la sovrappopolazione del globo la necessità di una religione a livello universale e dobbiamo renderci conto che è in gioco l'uomo e allora non possiamo più guardare al nostro orticello di Sicilia dell'Italia, dell'Europa, degli Stati Uniti o della Cina noi dobbiamo renderci conto che oggi c'è in gioco qualcosa di più è l'uomo nella sua duplice composizione di materia e spirito e che oggi corre il rischio di perdere le sue connotazioni più fondamentali per che cosa? Per volontà di una concentrazione di potere che dal passato ad oggi ha visto delle concentrazioni di forza che stanno condizionando esattamente lo svolgimento dell'attività nell'intero pianeta secondo lei dottore la sua decriptazione di questo linguaggio arcano culto di simboli, di richiami, di ridondanze come ad esempio certe cose dette negli anni 70 dal club di Roma poi le ritroviamo scritte nel monumento megalitico le Georgias Guidestones ecco tutta questa situazione qui cioè questa sua decriptazione che valore ha? cosa può offrire alle persone che leggeranno i suoi libri l'Aurora e X-Day? ma guardi io credo che purtroppo una grande forza che ha il progetto di potere in corso è quello proprio del carattere mondiale, planetario quindi la realizzazione del nuovo ordine mondiale è del nuovo ordine non dimentichiamoci che i discorsi fatti da Bush prima dell'intervento in Iraq nel 91 sì quando parlò nel 90 discorsi fatti da Rockefeller in quel periodo da Kissinger cioè sto parlando di persone che hanno svolto dei ruoli condizionanti nella storia non dimentichiamoci che Kissinger era alleato dei teleban fino al mese prima degli attentati alle due torri nel 2001 cioè sono le persone che queste sì hanno le coniezioni le conoscenze della storia cioè noi non è che possiamo avere una chance rispetto a queste tecniche che hanno in mano i mass media condizionando elezioni condizionando tutto non lo so si tratta veramente di io credo che il compito di ogni uomo è quello di svolgere l'attività che è adesso consentita io posso posso cercare di diciamo sfruttare le occasioni che ho avuto nella vita di maturare determinati convincimenti e di scoprire alcuni agganci concreti con ripeto fatti documentali perché una cosa è raccontare storie o raccontare storie romanzate di fatti che si preferisce descriverli in quel modo per non esporsi in altro modo io credo che l'occasione che ho avuto io ripeto c'è stato anche qualche altro però purtroppo i protagonisti cioè quelli che hanno vissuto queste parti della nostra storia non è che sono molti e quindi poi dopo sarà sempre più difficile l'eseguire queste ricostruzioni quindi io almeno per quanto riguarda il periodo dal 75 ad oggi beh io almeno cerco di lasciare una traccia di queste che sono le mie considerazioni le mie riflessioni potranno essere esatte potranno essere sbagliate o non condivisibili perché l'uomo nel corso del tempo ha cambiato le sue concezioni quindi è ben possibile che possano anche cambiare però io credo che le linee che ho individuato indichino con molta precisione con molta precisione che il problema risiede essenzialmente in finalità di potere di dominio di dominio sul mondo oggi pervenuto a un livello di effettiva realizzabilità quindi siamo nel momento in cui questo è esattamente nel momento che per caso ho voluto ho in qualche modo convogliato dirottato e forse comunque risulta scritto perché insomma io indico dei numeri il 21 e il 12 ma che non è che li ho inventati io o me le ha dette un collaboratore di giustizia o un massone o un religioso però guarda caso le persone più colte in questi settori che sono proprio i religiosi quelli che io ho anche citato nei miei scritti indicano le fonti che corrispondono a quelle che sono presenti in atti della mazzoneria e e e quindi comunque mi scusi dottore qui stiamo parlando del numero non certo come geometrica come matematica ma stiamo parlando del numero come simbolo come riferimento simbolico anche criptico sì ma gli effetti simbolici gli effetti criptici sono semplici termini per rappresentare delle realtà che che avvengono secondo la cronologia dei tempi cioè poi le puoi chiamare con un determinato numero perché si parte da una cultura ebraica che si legge in un modo e araba o si parte da quella nostra con un altro numero però quando si individuano le fonti le fonti del pensiero sia degli uni che degli altri che degli altri e si individuano le fonti bibliche originarie quelle che sono più lontane nel tempo e portano allo studio alla individuazione della creazione dei problemi originali della nascita dell'uomo sulla terra della nascita della vita sulla terra e quelle che nelle epoche più antiche non avevano le finalità di individuare gli aspetti religiosi ma invece gli aspetti meramente pagani che si sono sempre affiancati agli aspetti più materialistici dell'uomo e si vede che concordano nella individuazione di enunciati che indicano il nome di Lucifero il nome di Venere il nome del sole il nome del nord e additano indicano il primo giorno della creazione il secondo giorno della creazione poi li puoi considerare 12 o 21 e in questi è presente la chiave di lettura di Lucifero che non è altro che quella chiave di lettura che separa due concezioni diverse della vita una quella che è preesistente al cristianesimo e che era più legata alla espressione più naturalistica dell'uomo ma anche spirituale anche scientifica perché l'astronomia non dimentichiamo è stato una delle scienze che per prime si è sviluppata nell'ambito della conoscenza dell'uomo ha alzato la testa al cielo ha visto il sole la luna e quindi ha visto le maree le coltivazioni sono state fatte sulla base di rilevazioni naturalistiche che si sono tradotte in scienza i primi costruttori d'edalo per parlare per passare dall'astrazione ai fatti o IRAM per parlare cioè ci possono essere diverse prospettazioni e chiavi di lettura ma poi convergono tutte quindi tutto questo discorso entra in una chiave progettuale finalizzata a fatti reali a fatti reali no cioè noi stiamo parlando di storie che che scrivono i passaggi dell'uomo dall'origine ad oggi e quindi sono stati colti in visioni contrapposte sul bene e sul male espresse attraverso certi termini in cui lo chiami lucifero lo chiami il diavolo noi siamo molto condizionati dall'uso di termini e terminologie dantesche e delle rappresentazioni che in astratto nessuno può dire è o non è però l'uomo si forma attraverso gli insegnamenti che riceve così come oggi riceviamo gli attuali in passato sono stati quelli precedenti e quelli precedenti non è che sono solo quelli che partono dal cristianesimo cristianesimo è il nostro calendario che parte da Cristo e arriva ad oggi e non è mica scritto sia l'unico esatto no perché c'era l'uomo pure prima e quindi il fatto che vi sia questa dualità di culture è un fatto certificato oggettivo della storia gli stessi monumenti cioè tutto ciò che è stato costruito dall'uomo dall'antichità a oggi è il migliore collaboratore di giustizia per ricostruire la storia dell'uomo perché non la puoi cambiare perché è quella è quella e allora questa doppia storia di cui parlo io è la storia dell'umanità e che noi non possiamo cancellarla solo perché siamo aderenti all'una o siamo aderenti all'altra siamo questo siamo l'una e siamo l'altra ecco ecco oggi queste due concezioni sono allo scontro finale perché i mezzi che sono oggi in possesso dell'uomo sono tali da poter governare il mondo nel momento in cui è stato scoperto il dna dell'uomo non lo so forse è stato quello il momento in cui è sorto anche il progetto di modificarlo l'aspirazione dei degli illuminati degli immortali dei rosa croce della massoneria di quel diciamo di questo di questa particolare cultura che è rispettabilissima in senso assoluto e lo è stato per millenni e secoli perché ha raccolto i migliori artisti scienziati cultori della musica di qualsiasi cosa non è che possono essere inquadrati come i peccatori o coloro che sono portatori del male e gli altri invece sono i rappresentanti del bene dei concetti tra l'altro che subiscono un'evoluzione nel tempo quindi nemmeno io alla fine pure del mio ultimo studio sinceramente non posso essere in grado di dire chi ha ragione e chi ha torto tutto ognuno di noi è l'ultimo terminale di ciò che ha rappresentato se stesso e quindi uno può parlare per ciò che ha significato la propria vita ciò di cui è testimone ecco quindi io però posso dire così che per me non riesce accettabile il mutamento della di ciò che intendo per l'uomo e per i suoi valori di libertà intende il mutamento il mutamento oggi tentato ma tentato con molta forza in atto e che può veramente comportare un cambiamento del futuro dell'umanità radicale radicale dell'umanità e forse potrà anche condurre a una vita più duratura forse a un significato di a quella immortalità della quale tanto parlano i massoni come obiettivo fine finalità dell'uomo ma sì è indubbiamente il limite dell'uomo affermato fin dall'antichità però dentro di noi sappiamo che esiste pure una parte spirituale che costituisce una chiave di comprensione del significato della vita ecco quindi io mi rendo conto che ci troviamo di fronte a dei problemi che di fronte all'evoluzione scientifica soccombono tendono a soccombere io appartengo ancora a quella generazione che ha vissuto diciamo il tormento anche della storia dell'uomo e dell'umanità per guadagnare questi valori queste libertà queste libertà mi dispiace il vederle diciamo così calpestate e con un rischio concreto di distruzione anche di impoverimento di tutta l'umanità perché sentivo ieri delle notizie che secondo determinate proiezioni si potrà ritornare a un benessere inteso benessere molto limitato insomma anteriore al covid già calcolano il 2040 e dico ci rendiamo conto di questo cioè che cosa stiamo mettendo noi in gioco in queste trasformazioni dell'uomo per allungare la vita dell'uomo stiamo mettendo in gioco la spiritualità dell'uomo ecco il mio augurio è che accanto a quelle forme di martellamento mediatico che costituisce l'espressione concreta oggettiva e documentale perché non solo lo vediamo nei telegiornali ma dai grafici dagli studi dai dei rimedi che vengono studiati e dall'impiego dei capitali e da tutto quello che sta avvenendo ciò che in gioco è proprio quello è la perdita della libertà e della spiritualità dell'uomo per per un accrescimento della materialità dell'uomo c'è un aspetto che lei dottore pone in evidenza il concetto di infodemia dove questo potere sembra più preoccupato di tacitare le voci fuori dal coro piuttosto che di risolvere realmente il problema della salute e della società certo ma la cosa che preoccupa anche in questo problema è la teorizzazione di questo istituto della infodemia che mi pare ne ho parlato solo io ma c'è ne hanno parlato però prima loro cioè l'infodemia non sarebbe altro che il pericolo che certe idee che vengono affermate come esatte possano essere invalidate da delle idee che sono dissenzienti ora si tratta di vedere chi è che stabilisce ciò che è diciamo infodemia è ciò che è fedele alla realtà sono esattamente coloro che poi la rilevano e quindi sono loro che immettono i criteri di definizione del bene e del male quindi un conflitto di interessi un conflitto di interessi palesi cioè chi è che è in grado di dire infodemia chi è che è in grado di dirlo quando ciò che è vera scienza e ciò che non è scienza quando gli stessi inventori della bomba atomica hanno detto io sono il diavolo io sono la morte cioè quindi bisogna molto riflettere in questi fatti lei vede qualcosa di penalmente rilevante che potrebbe dare alla magistratura degli strumenti per bloccare e fermare questa azione? beh io per la verità li ho già andati nel giugno scorso però mi rendo anche conto che avendo anche svolto funzioni di magistrato che è il ruolo dei personaggi che quelli che dovrebbero agire intendo quelli che sono attori in queste vicende e l'internazionalità e il frazionamento delle attività e il condizionamento del terrore e della salute fisica dell'uomo costituiscono delle componenti che rendono molto difficile anche l'azione giudiziaria all'azione giudiziaria mentre però è anche noto però è anche noto che per quelle particolarità negative che comunque presenta l'uomo e cioè dell'errore che come è avvenuto in passato che non si cade per il peccato principale ma sulla buccia di banana la mia speranza il mio auspicio è che sì forse non sarà possibile individuare il reato o il peccatore in senso assoluto però possano invece risultare evidenti e non essere portati a termine non riuscire i piani per degli aspetti secondari per le rivalità per contrapposizioni interne per tutte quelle componenti diciamo che sappiamo che normalmente possono vanificare dei progetti che vengono reputati perfetti però il periodo è quello che è ecco per concludere dottore lei chiude adesso ha detto questo ma lei chiude il suo ultimo volume x day con un po' di scoramento perché per la visione che ha maturato con queste ricerche non vede in contrapposizione a questo pensiero negativo luciferico lei non vede una contrapposizione di una forza spirituale positiva che si che si contrapponga a questo però è anche vero che in tutte le sacre scritture alla fine il male perde e trionfa il bene addirittura con la manifestazione la seconda venuta di Cristo quindi le scritture a cui anche si avale cripticamente questa alta massoneria però di fatto dicono che quella potere perderà quindi il messaggio insito nella nostra storia spirituale il messaggio positivo diciamo che il messaggio positivo proviene dalle scritture più cristiane certo e queste però sono le successive anche quelle islamiche eh anche l'islam termina col giudizio dell'umanità e la seconda venuta di Cristo eh però non eh diciamo diciamo che oggi stiamo attraversando almeno chiaramente acque agitate il il problema io fino ad oggi non vedo eh quella luce che eh può eh far crollare questo castello di ehm di poteri che oggi che oggi che oggi è che oggi è costatabile sotto gli occhi di tutti eh purtroppo eh la mia visione forse eh negativa risente anche eh della mia età perché eh 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 i miei limiti di operatività sono in qualche modo più limitati eh e quindi ehm ehm spero che altri proseguano ecco eh eh la cosa ritengo che sia molto importante che ehm 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 i giovani eh si facciano portatori di un ehm 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 di una riscoperta di questi valori che sono stati da loro forse quasi nemmeno assaggiati eh e sino adesso purtroppo io vedo che non c'è una grande consapevolezza a livello planetario di ciò che è in gioco eh anche se gli attori sono eh mi pare noti a tutti forse non sono noti i riferimenti diciamo con episodi concreti perché eh la memoria facilmente si perde ehm poco tempo dopo e e le visioni d'insieme sono difficili da eh da comprendere da racchiudere da esprimere ed anche da capire è auspicabile che veramente esista una una forza positiva che prima o poi si manifesti e che trovi la soluzione in qualche modo trovi la soluzione la ringrazio dottore per noi è stato un enorme piacere poter parlare con lei anche contribuire per quello che possiamo affinché questo suo pensiero questa preziosissima a parer mio informazione che lei ha racchiuso in questi ultimi libri la bestia l'aurora x day speriamo che questo messaggio arrivi a più persone possibili che possano risvegliarsi e aderire a quella partecipazione civile che possa impedire questa deriva autoritaria che stiamo conoscendo non solo nel nostro paese ma in tutto il pianeta Terra grazie dottore Palermo la ringrazio e grazie a voi grazie a tutti